Beh, questa final climb è sempre una bella scoperta, una bella avventura, poi arriva dopo tanti giorni di gara e quindi è sempre un punto di domanda sentire il fisico come reagisce. L'anno scorso è andata bene, anche complice l'incoscienza della prima volta, quest'anno invece ero cosciente di quello che avrei trovato e ho cercato di gestirmi al meglio fino agli ultimi 600 metri, dove ho provato a aumentare un po', poi dopo sono un po' al gancio, ho rialentato, ho riaumentato, però alla fine a prescindere del risultato oggi è stato veramente un grande allenamento ed è stato sicuramente, sono sicuro che è molto utile anche per il proseguo della stagione. Avere tanta gente che urla il tuo nome, che ti spinge, è veramente bello. Io di gara a distance, tra virgolette, da protagonista non ne ho mai fatte e qui così, a prescindere dal fatto che sei tra i primi o più indietro, per gli italiani c'è sempre un grandissimo tifo. Quindi grazie a chi è venuto sulle piste, chi è saltato sui divani e a chi verrà negli anni prossimi, nei prossimi periodi a tifarci.